ciao ragazzi ciao a tutti ben arrivati puntuali confermate che vedete sentite correttamente ok bene allora benvenuti ripeto tg della sapienza finanziaria perché tg tg perché vogliamo provare a andare sui mercati per vedere le notizie che arrivano dai mercati a noi poco importa quali che sono le notizie che si leggono sui giornali quelle che sono le notizie che arrivano dalla televisione quelle notizie che arrivano dalle conferenze stampa dei governatori delle banche centrali di turno dei politici degli economisti degli analisti non ci interessa niente le uniche informazioni le uniche notizie che ci interessano a noi del tg della sapienza finanziaria sono quelle che arrivano dai mercati sui mercati vengono messi i soldi e quindi sono lo specchio delle aspettative sono lo specchio di quello che poi è la realtà là fuori non ci interessano le cause del perché i movimenti si si modi i prezzi si muovono ci interessa l'effetto non vogliamo sapere perché un prezzo andato da qua alla ci interessa che l'ha fatto e andiamo a vedere come l'ha fatto per questo noi poco trattiamo o mai quasi mai quelle che sono le informazioni macroeconomiche quelle che sono le notizie che arrivano dai vari siti che riguardano dati in uscita importanti anche a livello economico veramente ognuno potrebbe interpretarli a modo suo e quant'altro e comunque sono tutte notizie sono tutti dati che potrebbero certamente influenzare i prezzi ma nel medio e lungo termine noi in quanto trader siamo quelli che devono prendere delle decisioni operative trovare il timing corretto d'entrata trovare punti per gli stop loss trovare metodi di gestione delle operazioni siamo quelli che siamo sul campo e quindi dobbiamo fidarci io mi fido solo del grafico allora il grafico che vedete sullo sfondo intanto ben arrivati a tutti quanti i grafici che vedete sullo sfondo sono proprio le copie valutarie così come le abbiamo lasciate settimana scorsa giovedì scorso in chiusura di dtg se vi ricordate avevamo delle situazioni aperte che naturalmente ho chiuso sul finire della settimana realizzando anche dei buoni profitti e questo non è mai certamente male tuttavia quello che conta è essere riusciti a ancora avere una dimostrazione che il metodo di lavoro ci ha consentito di bene interpretare quello che stava succedendo non il contrario io sono del parere che è il nostro metodo di lavoro che deve aiutarci ad interpretare quello che succede non il contrario non siamo noi trader che dobbiamo cercare di interpretare i grafici ma è il metodo che non siamo noi che dobbiamo cercare di interpretare quello che succede e poi decidere se e quando operare eccetera eccetera è il metodo che deve darci dimostrazione di essere in grado di bene interpretare quello che c'è là fuori e direi che settimana scorsa abbiamo avuto proprio una bellissima dimostrazione di come questo particolare approccio ai mercati sia riuscito a cogliere pienamente la realtà dei mercati valutari che andiamo ad osservare quindi le operazioni sono state chiuse tutte tutte bene direi quindi di andare immediatamente ad aggiornare intanto saluto quelli che arrivano gli amici che stanno entrando adesso saluto anche a voi quindi andiamo immediatamente ok andiamo immediatamente ad aggiornare quelli che sono i livelli degli estremi delle delle aree che delimitiamo quindi i minimi massimi della settimana dove sono loro che ci devono dare il l'ambiente di trading quindi andiamo ad aggiornare certamente l'euro tolgo un attimino la mascherina qui allora questi sono i minimi raggiunti la settimana scorsa questi sono i massimi e quindi posizioniamo gli estremi del range lo facciamo anche sulla sterlina vedete che in maniera molto oggettiva andiamo a delimitare quelle che sono le le aree che poi ci dovranno dare l'ambiente di mercato ovvero che ci dovranno dire se siamo dentro un trend o meglio in un ambiente momentum o in un ambiente swing laddove è proprio da questo che derivano poi le coerenti strategie operative il dollaro canadese questi sono stati i massimi della settimana scorsa più o meno sono i massimi della settimana ancora precedente questi sono stati i minimi toccati la settimana scorsa è stata una settimana proprio nel range direi sono stati pochi sforamenti sul dollaro canadese andiamo sul kiwi aggiorniamo gli estremi e per ultimo il dollaro yen andando a strutturare in questo modo il mercato questo probabilmente l'avevamo già modificato mentre parlavamo alla fine dello scorso TG quindi abbiamo strutturato il mercato tracciando i livelli superiori e inferiori del range della settimana precedente questo determina l'ambiente di trading nel quale ci muoviamo e quindi swing o momentum e quindi le coerenti strategie operative andiamo quindi immediatamente a vedere se e come potremmo sfruttare questo ambiente e unirlo con quello che è l'analisi grafica del prezzo partiamo dall'euro l'euro è certamente si è aperto certamente in un ambiente non direzionale il mercato è andato a testare l'area dei minimi della settimana scorsa quindi fin tanto che siamo all'interno di questo range fin tanto che siamo all'interno del range della settimana scorsa è un ambiente non direzionale cosa prevede questo ambiente? prevede aree di acquisto e aree di vendita sugli estremi della lateralità sugli estremi della settimana quindi questa è senz'altro un'area di acquisto l'euro si sta muovendo su un'area di acquisto andiamo a vedere se ci sono potenziali indicazioni che potrebbero indicarci un acquisto quindi andiamo a vedere se ci sono i nostri pattern direi certamente sì questo è un hammer che arriva dopo due candele rosse quindi da metodo non ce l'ho qui aperto ma questo è certamente un pattern candlestick buono per essere comprato andiamo a vedere l'azione del prezzo cosa ci dice c'è stata una trappola la settimana scorsa quindi una continuazione della spinta ribassista la trappola vediamo un pochino se è arrivata a target 146 pips no, siamo più o meno al 60-70% quindi il mercato può scendere ancora siamo tuttavia in un ambiente non direzionale quindi questa è un'area di acquisto il mercato potrebbe quindi ritracciare andando a completare la figura che avevamo già evidenziato settimana scorsa con una prima testa o meglio la spalla sinistra una testa e il potenziale formarsi della spalla destra questo completerebbe la figura di potenziale inversione quindi ricapitolando sull'euro siamo in un ambiente non direzionale quindi siamo in un'area di acquisto tecnicamente potrebbe esserci il rimbalzo per così si può dire per andare a chiudere la formazione del testa spalle ribassista andiamo a vedere se ci sono, ripeto pattern candlestick che potrebbero suggerire l'acquisto siamo solo al primo test però di quest'area quindi sarebbe bene attendere un secondo test sempre da metodo vediamo se c'è stato un ritest precedente queste sono tutte aree buone per comprare le aree di volume sono più in alto quindi non potrebbero inficiare qui ci sono aree di volume sul minimo di questa candela quindi un pochino più in basso ok datemi 30 secondi che andiamo ad aprire il trade il primo trade della settimana proprio su quest'area di minimi da metodo datemi un attimo ragazzi ok ok rimpostando l'indicatore che ci deve dare il corretto size naturalmente nostro cross sotto i minimi ok abbiamo il size quindi andiamo ad effettuare certamente l'acquisto il pattern è stato attivato ok una e una due lo stop loss stretto naturalmente perché se rompe il range della settimana scorsa non serve più a niente quindi andiamo a posizionare uno stop loss stretto 1.06.45 ok anche l'altra perfetto ok ragazzi siamo dunque a mercato tolgo le linee degli ordini apro di nuovo la condivisione ok mi confermate che rivedete quindi tutti correttamente ok ancora un attimino ragazzi perfetto togliamo tutti gli indicatori quelli che non ci servono ok bene quindi siamo a mercato sull'euro togliamo ok allora da metodo siamo in acquisto sull'euro il ragionamento l'avete compreso siamo in un ambiente non direzionale e siamo all'interno del range della settimana scorsa in area di acquisto si compra nella parte bassa e si vende nella parte alta punto naturalmente non basta questo occorre che tatticamente ognuno si crei le proprie confluenze grafiche buone per essere sfruttate uno di questi è certamente l'idea che ci sia un doppio test dell'area in questione che ci siano dei pattern candlestick di breve che confermino la potenziale tenuta dell'area e noi abbiamo aggiunto anche un po' di analisi tecnica laddove abbiamo ripeto questa formazione di questo test a spalle che quindi potrebbe davvero prevedere termine brutto ma tant'è prevedere una potenziale risalita dei prezzi il metodo deve aiutarci a interpretare quello che succede non il contrario quindi facciamo quello che ci dice andiamo a vedere per curiosità GBP qui si è cancellata una linea ok la rimettiamo immediatamente rossa ecco vedete come c'è divergenza o meglio scusate convergenza volevo dire tra l'euro e la sterlina nonostante le due coppie si siano mosse in maniera anche diversa sul finire della settimana scorsa guardate come ad esempio la sterlina a partire da mercoledì giovedì venerdì abbia fatto un bel ritracciamento ad andare a ritestare i massimi della settimana quasi l'euro invece abbia continuato nella sua discesa e quindi questo era un po' una divergenza di quello che avrebbe potuto succedere erano due coppie correlate che si stanno muovendo in maniera scorrelata tuttavia l'apertura della settimana ha visto convergere l'azione delle due coppie valutari in quanto abbiamo sia l'euro che la sterlina in un ambiente non direzionale aspettate un attimo che vediamo questi sono i massimi scusate perché avevo ecco perché erano un pochino più in alto perfetto quindi dicevo entrambe le coppie in ambiente non direzionale quindi certamente in maniera convergente perfetto questo è una una conferma in più tutte e due hanno lo stesso ambiente quindi una bella conferma andiamo a vedere sulla sterlina se è possibile fare qualcosa siamo in un ambiente non direzionale anche sulla sterlina il mercato si muove all'interno del range della settimana scorsa ha aperto più o meno a metà sappiamo che l'area centrale diventa un'area importante non diventa né un'area di acquisto né un'area di vendita a meno che ci siano dei segnali particolari la sterlina non si muove certo in una delle due aree quindi dobbiamo aspettare che si muova verso l'uno o verso l'altro al momento non possiamo fare niente certo è che seguendo l'analisi tecnica e basta la sterlina è in piena formazione di quello che è un di nuovo un pattern di inversione un testa spalle ribassista sono quelli che tradiamo da metodo lo vedete con la prima spalla sinistra la testa e la spalla destra in formazione occorre vedere se come il mercato andrà confermare quindi questo testa spalle ho un metodo del tutto personale per tracciare le neckline che al momento mi tengo per me e comunque non è ancora attivato quindi ambiente non direzionale anche per la sterlina siamo lontani dalle aree di acquisto di vendita e quindi al momento non c'è niente da pensare andiamo a vedere l'australiano intanto saluto anche le persone che si sono unite in questo momento ciao ragazzi ciao ben arrivati l'australia dollaro australia contro dollaro ambiente non direzionale certo questa notte è aperto con una buona discesa quindi ha continuato le discese che erano iniziate sul finire giovedì scorso anche con questo bel doppio massimo da manuale guardate che bello la rottura della neckline e la spinta ribassista siamo in area di acquisto per quanto riguarda questa coppia in quanto il mercato si muove nella parte bassa del range della settimana scorsa andiamo a vedere se ci sono delle indicazioni interessanti per quanto riguarda i volumi che potrebbero ottenere il mercato con questo abbiamo un bel punto di lancio con dei volumi davvero molto molto alti andiamo a vedere se ci sono dei pattern candlestick direi di sì da manuale quindi anche sull'australiano se mi date 3 secondi andiamo ad operare mettiamo il nostro indicatore andiamo sotto i minimi del un attimino andiamo sotto i minimi del range in quanto ok ecco qui certamente andiamo a procedere all'acquisto ok lo stop loss impostato 0.75 e 0.85 per entrambi forse qualcuno si stupisce della semplicità del metodo ma così è ragazzi quindi andiamo a riaprire lo schermo a tutto tondo andiamo ad eliminare l'indicatore che non serve a niente ok quindi confermiamo che siamo in acquisto anche sull'australia dollaro in quanto siamo in area di acquisto ci sono dei bei volumi su questo punto di lancio fatto segnare alcune settimane fa che è stato testato quindi ha tenuto una prima volta siamo di nuovo in quell'area quindi volumi molto molto alti mi piacerebbe montare uno stoccastico e vedere se ci sono anche delle divergenze questo è il nostro settaggio ecco qua andiamo a aumentare un pochino lo zoom allora abbiamo questo punto di minimo di mercato e questo punto di swing di minimo di mercato che sono si sono formati a prezzi superiori e se tracciamo una linea che unisce sullo stocastico queste due linee direi che siamo in una divergenza di lungo periodo di tipo rialzista quindi abbiamo minimi dei prezzi crescenti ma minimi dell'oscillatore divergenti nel breve abbiamo di nuovo una bella divergenza perché abbiamo anche se non è proprio eclatante su questi minimi di periodo veramente molto stretto abbiamo il mercato che fa segnare dei prezzi inferiori ma abbiamo lo stocastico che invece è carico da lì per venduto quindi una doppia divergenza che conferma che questo potrebbe essere un buon punto dal quale ripartire quindi senza ombra di dubbio abbiamo tutto quello che ci serve per implementare il nostro trade cosa che abbiamo immediatamente fatta quindi siamo long anche per quello che riguarda l'Australia dollaro ok bene per quello che riguarda la gestione di questi trade siamo in un ambiente non direzionale e quindi attenzione che i movimenti potrebbero essere bidirezionali e molto molto repentini quindi non siamo in un ambiente momentum l'ambiente in cui uno tiene le posizioni ma siamo in un ambiente swing ovvero il mercato potrebbe dar luogo dei cambiamenti di direzione repentini e improvvisi quindi vanno gestite queste operazioni laddove naturalmente il mercato ci darà la possibilità di farlo una volta giunti a target usciamo immediatamente non gestiamo niente proprio perché siamo in un ambiente non direzionale cerchiamo di prendere spunto da quello che vediamo noi tradiamo il presente tradiamo quello che si vede non quello che immaginiamo quindi per quanto riguarda il trade sull'euro che lo ripeto ancora una volta è in un ambiente non direzionale abbiamo impostato i nostri ordini quindi il pattern è attivato credo che potremmo uscire con una prima posizione o su questo swing o su questo minimo di trend quello che potrebbe deformarsi è non so se siete d'accordo un potenziale doppio minimo quindi ambiente non direzionale doppio minimo se il mercato lo conferma l'estensione potrebbe andare fino qua andiamo a vedere che rapporto potrebbe esserci di abbiamo una quindicina di pips esatto quindi più o meno qui su questo swing potremmo chiudere laddove il mercato ci desse la possibilità di farlo la prima posizione ok la teniamo qua così la seconda posizione certamente da metodo più o meno alla metà del range della settimana scorsa proviamo ad utilizzare Fibonacci che ci dà l'esatto punto eccolo qua più o meno su quest'area andremo a chiudere certamente laddove il mercato dovesse avvallare il nostro trade la seconda posizione perché siamo all'interno di un mercato non direzionale quindi la metà del range diventa certamente un'area di attenzione ok altre cose da dire non ce ne sono al momento andiamo a vedere le altre copie il dollaro americano contro il dollaro canadese anche lui in un ambiente assolutamente non direzionale vedete che siamo all'interno pienamente del range della settimana scorsa siamo nel mezzo del guado nel mezzo del passaggio quindi non siamo né in area di acquisto né in area di vendita a proposito andiamo a vedere i gap come sono stati chiusi guardate come il gap di apertura di settimana sia stato chiuso immediatamente proprio perché siamo in un ambiente non direzionale quindi questo favorisce certamente stessa cosa anche l'euro andiamo a aumentare un po' lo zoom ecco qua vedete il mercato ambiente non direzionale si apre all'interno del range della settimana scorsa la probabilità che i gap di apertura di settimana vengono chiusi sono certamente superiori infatti è quello che è successo il mercato è andato a chiudere il gap si è appoggiato sui minimi della settimana precedente e sta provando a rimbalzare ne abbiamo parlato di questi gap ragazzi andiamo a vedere quindi il dollaro canadese ripeto qui non c'è niente da fare siamo nel mezzo del cammino di nostra vita il dollaro il dollaro neozelandese contro il dollaro americano stessa cosa siamo un pochino lontani dall'area di dall'area di acquisto è vero che il range della settimana è qua la metà quindi se anche dovessero esserci gli estermi per un trade non ci sarebbero i rapporti rischi rendimento per per provare il trade sto notando una bella area di supporto qui che è praticamente questa sorta di neckline il mercato è sceso a ritestarla nel tentativo di fare nuovi massimi quindi questa diventa una quasi una neckline di un triplo massimo sapete che sono tra le aree che da metodo andiamo a identificare per la maggiore su quest'area è stato fatto un test con una falsa rottura da manuale oserei dire quindi peccato che da questo punto di vista l'ambiente di mercato non ci suggerisca il trade perché non c'è lo spazio altrimenti questo sarebbe stato un'ottima potenziale opportunità di acquisto quindi di dollari neozelandesi contro dollari americani ripeto abbiamo avuto la neckline di questo triplo massimo triplo massimo perché era stato confermato doppio supporto rottura e falsa rottura la vedete no? il mercato che va a riprendersi l'accelerazione ribassista falsa rottura il mercato può salire più o meno fino a qui da metodo quindi a metà poco più della metà dell'area ma purtroppo siamo lontani da quello che è l'area di acquisto se anche posizionassimo uno stop al di sotto dei minimi del range della settimana scorsa non avremmo lo spazio per godere poi del potenziale del potenziale movimento tuttavia una buona per chi trada la price action l'analisi del prezzo questa è una buona opportunità di trading magari con uno stop loss al di sotto di questi swing provare il trade andare a cogliere proprio l'estensione di quella che è l'estensione di quella che è la trappola saluto anche gli amici che numerosi si stanno aggiungendo mi fa molto piacere ciao ragazzi ben arrivati tutti voi quindi qui anche se tecnicamente il mercato ci stia dando una buona opportunità purtroppo non abbiamo lo spazio per non abbiamo lo spazio per muoverci dollaro yen dollaro yen anche lui ambiente non direzionale abbiamo aperto più o meno a metà del range quindi anche qui da metodo dobbiamo aspettare che il mercato arrivi nella parte alta o nella parte bassa per tentare un acquisto tecnicamente il mercato sta provando a creare un testa spalle rialzista lo vedete bene qui l'avevamo lasciato tracciato la settimana scorsa ricordate che in fine della settimana abbiamo fatto giovedì un bel trade che poi abbiamo chiuso proprio quasi sui massimi eravamo in un ambiente momentum questi erano i minimi della settimana scorsa penetrati all'interno e poi ripenetrati verso l'alto quindi ambiente di trend following trend following verso l'alto qui avevamo aperto quel trade lo ricordate long che poi avevamo chiuso qui più o meno o meglio qui gestendolo con un trailing stop perché da metodo si tiene aperta la posizione fino alla chiusura della settimana gestendolo naturalmente in trailing stop abbiamo gestito in trailing stop qui il mercato poi sul finire della settimana è andato a colpirci comunque un buon un buon trade da metodo quindi da analisi tecnica da price action il mercato sta provando a costruire a dare luogo a dare sfogo a questo che è il testa spalle che è stato certamente attivato il target è questo lo ricordate l'avevamo tracciato sarà negato solo se quando il mercato scenderà a quotare sotto questo livello se il mercato scende qui sotto nega il testa spalle e quindi staremo a vedere come il dualismo metodo e analisi del prezzo potrebbe darci delle buone buone indicazioni la sterlina ambiente non direzionale vedete che è rimasto tracciato né più né meno tutto tutto il movimento della settimana scorsa qui non ho non ho ancora non abbiamo ancora in apertura di Tg aggiornato i dati ecco qua quindi ambiente non direzionale area di avvendita e area di acquisto qui ci si sarebbe potuti trovare questa notte probabilmente qui ci sarebbero stati anche dei pattern di vendita eccoli qua direi proprio da manuale accidenti che ora era le 7.30 questa mattina su 30 minuti qui c'era una bellissima opportunità di trading vediamo se riesco a trovare un attimino ragazzi un attimino che vado a cercare vado a cercare eccoli qua vedete questo pattern qui accanto ditemi se lo vedete questo qui all'estrema destra è in condivisione lo schermo che a volte non lo capisco lo vedete quel pattern lì candlestica a destra disegnato in alto a destra ok guardatelo bene questo qua questa è una scheda dei miei diari da metodo è uno dei pattern candlestick che utilizzo per scremare le potenziali opportunità cancello i disegni non da lontano normale ecco se andiamo sui grafici vedete che questo pattern sembra proprio da manuale eccolo qua lo vedete torno un attimo su quel grafico di prima ecco qua un gruppo di candele che mi danno ci danno delle indicazioni importanti hanno un significato questi pattern non è che sono formati così a caso hanno un significato e se andiamo a vederlo sul nostro schermo eccolo qua lo vedete eravamo in area di vendita da metodo perché siamo in un ambiente non direzionale quindi apertura swing area di vendita stop loss sopra i massimi e proviamo a perseguire la parte centrale dell'area devo trovare il modo ragazzi che pensate come sarebbe bello se riuscissimo a fare in modo di imparare qualcosa tutti quanti e di magari tradare qualcosa insieme beh potremmo anche pensarci no? un progetto così nell'andare vedremo 7.30 opportunità di trading da manuale da metodo sul dollaro yen perché ambiente non direzionale siamo sui massimi del range della settimana precedente quindi in area di vendita pattern candlestick date un'occhiata ai volumi signori per piacere qua li avevo tracciati in sede di analisi proprio ieri ieri pomeriggio quando do una prima occhiata ai mercati queste linee le avevo tracciate ieri pomeriggio e corrispondono a questa fortissima area di volumi molto superiore alla media la vedete qui in basso che sono gli estremi di questa candela 1 e 1 a 2 ecco guardate come da manuale il mercato si è proprio fermato qui quindi avevamo altre conferme sempre da analisi tecnica in questo caso da analisi dei volumi che ci dicevano che questa era davvero un'area sulla quale c'erano stati molti interessi quindi certamente compratori ma quindi ovviamente anche molti venditori quindi avevamo davvero tutto per provare questo trade ok peccato che sia andato comunque tant'è ok ragazzi qui non ci rimane che gestire in maniera molto serena e molto tranquilla quelli che sono i nostri due trade abbiamo aperto sull'euro in acquisto ambiente non direzionale quindi non terremo la posizione se il mercato ci darà modo di farlo per tutta la settimana ma la chiuderemo sui target prestabiliti perché perché siamo in un ambiente non direzionale e quindi il mercato erratico può succedere di tutto siamo in acquisto anche di dollari australiani contro dollari americani perché di nuovo pattern candlestick vediamo se c'è qui guardate un attimino qua nella parte sinistra del grafico stavolta del disegno lo vedete questo pattern se voi lo ribaltate a gambe per aria lo ribaltate proprio a gambe per aria troverete qualcosa di molto simile a questo anzi trovate questo se no non avrei fatto il trade sull'australiano questo qua lo vedete se lo evidenzio sono i nostri pattern formati a tre candele di nuovo eccolo qua girate la gambe per aria ed è questo qui ripeto sono pattern che hanno il loro perché molti tradano le candele così le pin le chiamano così le shooting e basta non ci fidiamo di questo movimento ma vogliamo qualcosa di contorno il mercato l'ha fatto di nuovo da manuale qui lo vedete girato gambe per aria quindi senza se senza ma a corollario di analisi molto semplici ma che devono aiutarci ad interpretare bene quello che succede stiamo facendo questo trade c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa ragazzi vuol dire qualcosa vuol dire la sua tanto di nuovo saluto tutti i nuovi arrivati tg della sapienza perché siamo sui mercati e quindi le notizie arrivano arrivano quotidianamente arrivano su ogni time frame ogni minuto c'è una notizia perché ogni candela signori se tu lavori su un grafico un minuto è importante a mio avviso e lo è perché potrebbe essere quella che ti chiude una trappola potrebbe essere quella che ti conferma un'inversione di un trend potrebbe essere quella che ti dice la correzione è finita e quindi scusate togliamo un attimo questo e quindi ogni candela è buona quindi le notizie arrivano dai mercati i mercati li vediamo sui grafici dove c'è la realtà delle cose non le bugie volete aggiungere qualcosa ragazzi altrimenti andiamo a fare un po' di analisi tecnica su quello che è stata la chiusura settimanale proprio a livello candlestick ok se nessuno vuole aggiungere qualcosa io sennò gli apro il microfono però proviamo ad andare sull'euro in questo caso apriamo però il piano di lavoro quello multi time frame cancelliamo queste scritte quando sono quelle della settimana scorsa e la settimana è finita non vale più niente allora l'euro anzi meglio ancora siamo ai primi di marzo di aprile quindi si è chiuso il mese si è chiuso il mensile eccolo qua beh direi un pattern niente male questo non è aggiornato vedete perché l'abbiamo fatto insieme in diretta direi tecnicamente un pattern rialzista sul mensile di non poco conto sull'euro abbiamo supporti area di supporti qui e su questi supporti abbiamo un pattern di di aprile certamente rialzista con queste tre candele di tipo rialzista con questo inverted hammer che chiude il pattern questi sono rimasti proprio impiccati qui i venditori e quindi certamente una buona una buona analisi di quello che è la possibilità di vedere i prezzi salire da un punto di vista candlestick certo è che sempre a livello mensile siamo al di sotto di questo minimo importante questo quindi prosegue la lunga fase l'estenuante fase di accettazione che è avanti da uno quasi due anni oramai due anni questa fase di accettazione la vedete dopo la rottura di questi minimi di trend importanti quando c'è un'accettazione di una rottura le probabilità che il mercato prosegua nella direzione della rottura sono certamente molto alte nel frattempo però il mercato ci sta dicendo qualcosa di diverso e quindi noi tradiamo quello che vediamo non quello che pensiamo sui limiti estremi di questa stiamo facendo price action la lettura tecnica del grafico nella parte bassa il mercato non solo ha creato due divergenze ma una eclatante attivata tra l'altro perché il mercato ha incrociato la sua media ma proprio nella parte bassa ha creato questa sorta di pattern candlestick di inversione del prezzo quindi tecnicamente c'è tutto perché questo mese ci sia un approbabile rimbalzo verso l'alto generalmente l'abbiamo studiato anche all'interno del percorso formativo che è la sapienza il primo target è la chiusura di questi spike il primo potenziale target di quello che potrebbero essere le salite del mercato vedete queste analisi non è che mi piacciono poi tanto perché sono supposizioni e quando uno fa delle supposizioni porca vacca sembra che sembra che dica cose vere no? ma non le sappiamo cioè facciamo delle supposizioni ogni volta che facciamo delle analisi io mi vedo un po' come un astronomo avete presente gli astronomi che studiano l'universo stando lo spazio stando con i piedi ben piantati per terra un trader invece è quello che tu lo metti col culo sulla punta di un missile e viene sparato per aria e quello vede effettivamente com'è il non ha supposizioni lui è lì lo vede com'è lo spazio lo respira lo percepisce vede il pianeta dallo spazio vede cose che tu da qui non vedi quindi fare l'analisi di un prezzo è un po' come quello che fa lo studio lo spazio e lo terra fa anche tante supposizioni noi trader invece ci dobbiamo fidare di quello che vediamo e se da metodo statisticamente abbiamo dei buoni riscontri è quello è il nostro metodo di misura quindi c'è un bel pattern rialzista nella parte bassa seguito o confermato da una divergenza di inversione rialzista sull'euro il primo potenziale target potrebbe essere la chiusura di questa candela di questo inverte damer Marco mi chiede cosa c'è questa sera sul webinar di sapienza finanziaria io se non sono sincero non so neanche se c'è un webinar stasera perché sono veramente preso per creare dei prodotti per il gruppo e i ragazzi dall'altra parte li sento veramente con il lumicino e sono sincero non ho idea che ci sia un webinar questa sera ha mandato una mail Pasquini ok allora sarà arrivata anche a me non ho avuto il tempo di guardarla informati bene se ci sarà questo webinar sicuramente sarà qualcosa di assolutamente interessante a meno che sia proprio partito il lancio dei primi prodotti che abbiamo in mente di lanciare esatto presentazione di nuovo corso esatto Marco esatto 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 e a volte quello che fa la mano destra non lo sa la mano sinistra e quant'altro siamo tutti focalizzati certamente a far crescere il gruppo ma a volte ti ritrovi talmente invischiato negli impegni che non hai il tempo di di guardare quello che fanno quello che fanno gli altri quindi ok presentazione nuovo corso perfetto bene ci saranno anche delle novità nel corso che arriverà quindi davvero molto interessante quindi un segnale certamente rialzista per quello che riguarda l'euro nel lungo periodo vediamo il settimanale che scommetto avrà detto qualcosa di molto diverso infatti guardate per chi trada l'azione del prezzo questo pattern è certamente da inquadrare come un engulfing settimanale quindi la potenziale continuazione delle discese c'è anche una bella divergenza di continuazione vedete questo swing e questo massimo di periodo che si formano a prezzi divergenti quindi a livelli divergenti qui si scende qui si sale quindi questo potrebbe essere davvero un nuovo massimo di trend quali trend questo che è spartito qui più o meno a metà del 2016 quindi nel medio lungo periodo tecnicamente potremmo certamente rivedere nel medio periodo ripeto un allungo verso il basso ad andare a ritestare queste aree sul lungo periodo invece un pochino più lungo abbiamo qualcosa di diverso e quindi una divergenza di inversione rialzista noi non ci fidiamo delle analisi ma lo ripeto ancora una volta andiamo a fare training su quello che vediamo e abbiamo un metodo che lui ci deve dire ci deve aiutare ad interpretare l'azione del prezzo io vorrei che focalizzaste l'attenzione su questa su questa affermazione credo che io credo che non devo essere io trader a cercare di interpretare un grafico e poi implementarci delle operazioni finanziarie ma deve essere il metodo che mi deve aiutare a interpretare quello che succede sul grafico io devo tradare il metodo non so se riesco a far passare questo messaggio ma è veramente importante è di importanza a cruciare questa cosa perché se siamo noi a dover interpretare quello che succede allora diventa tutta soggettiva no la cosa e ci incasiniamo perché come fa a sapere se è vero o no ma se hai un metodo che ti deve aiutare lui a interpretare guardate ad esempio quello che è successo la settimana scorsa è eclatante abbiamo avuto un metodo che seguendolo è riuscito a ben interpretare quello che poi è successo ecco questo deve servire un metodo di lavoro e non e non il contrario quindi sul settimanale abbiamo dei pattern candlestick certamente ribassisti abbiamo una visione di medio periodo ribassista divergenze di continuazione ribassista sul mensile abbiamo una visione diametralmente opposta perché siamo sui minimi di una correzione quindi chi vende i minimi chi è quel trader così folle che vende i minimi e abbiamo in più delle divergenze di rialziste patter candlestick rialzisti chi ha ragione boh hanno ragione tutti entrambi ma se tu non hai un metodo di lavoro che ti aiuta a districarti da queste cose e che esula dal fatto che tu debba fare delle analisi come fai a venerne fuori come fai a venerne fuori e allora da lì l'idea di non tradare il quello che è l'azione del prezzo ma di tradare quello che è l'ambiente del mercato e poi sfruttare l'analisi tecnica come conseguenza io so che poco per volta riusciremo a a ben comprendere questa cosa che comunque è veramente veramente importante signori sono le 14.58 siamo in chiusura di di telegiornale anche oggi buone notizie arrivano quindi sull'euro siamo al test ops dalla parte bassa del minimo della settimana scorsa quindi area di acquisto abbiamo provveduto a comprare stessa cosa il metodo ci ha suggerito di comportarci per quello che riguarda l'australiano stessa cosa ripeto segnali confortanti per quello che riguarda il metodo che deve aiutarci ad interpretare quello che succede e siamo a mercato in acquisto anche sull'australiano le gestiremo in un ambiente non direzionale quindi abbiamo impostato dei take profit non gestiremo con training stop fino alla fine della settimana ma una volta arrivati a target certamente andremo a chiudere immediatamente i nostri trade proprio perché l'ambiente è non direzionale per entrambi signori 14.59 sono quasi le 15 direi che per oggi è tutto ragazzi io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia l'appuntamento è per giovedì prossimo ore 14 tg della sapienza finanziaria ciao ragazzi buon trading buon studio ciao e grazie per essere stati insieme a noi ciao a giovedì prossimo ah per chi vorrà naturalmente questa sera grazie a Marco tutti al 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 webinar della sapienza finanziaria Marco che ora è? alle 21 immagino è alle 21 Marco? hai il microfono? sì ah ok perfetto Marco ok grazie per grazie per avercelo detto quindi anche per te l'appuntamento è per giovedì prossimo ciao raga buon trading buon studio a giovedì ciao e grazie ciao 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 ciao